Sto per entrare in Palazzo Vecchio a Firenze e vi condurrò alla scoperta di alcune stanze del quartiere dell'Onora di Toledo. Il quartiere venne progettato anch'esso da Giorgio Vasari, per la moglie di Cosimo I. La prima sala che si incontra è la Camera Verde, così chiamata per il colore delle pareti, un tempo decorati dai paesaggi e decorazioni nel soffitto con lo stemma Medici Toledo e Grottesche. È in questa sala che si trova l'accesso al corridoio vasariano. A sinistra si accede allo scrittoio dell'Onora, mentre a destra si accede alla cappella, affrescata dal bronzino con le storie di Mosè e sempre del bronzino e la grande pietà sull'altare. Le stanze che seguono sono collocate nella parte più antica del palazzo ed erano originariamente usate dai priori e dal confaloniere, prima di essere strutturate da Giorgio Vasari, con i contributi sia di Giovanni Stradano per le pitture e di Battista Botticelli per gli intagli nei soffitti. È proprio di queste sale che vi voglio narrare, poiché affrontano un tema iconografico molto interessante, cioè quello legato alle vite di donne famose, le cui virtù furono due esempio per la Granduchesse e l'Onora. Troviamo così la Sala delle Sabine per il tema della concordia, la Sala di Esther per l'amore per la pate, la Sala di Penelope allusiva alla fedeltà e la Sala di Gualdrada per il rigore morale. La Sala delle Sabine un tempo era usata come sala d'attesa per le signore che aspettavano di essere ammesse alla corte di l'Onora. Qui è rappresentata una scena storica, la duchesse paragonata alle Sabine, mediatrice della pace tra i mariti romani e parenti Sabini. Lo storico latino Livio narra che il re Romolo, dopo aver fondato Roma, rapiccò l'inganno le donne del confinante popolo Sabino per condurre nella nuova città. Fu così che i Sabini mossero guerra a Roma, ma le donne capeggiate da Ersilia, la moglie di Romolo, evitarono lo scontro tra i due popoli gettandosi in mezzo ai combattenti e invocando la pace. L'episodio rappresentato al centro del soffitto celebra la virtù femminile, quindi delle mediazioni, poiché nell'ovale al centro vediamo le donne Sabine che mettono pace tra i mariti romani e i parenti Sabini. Intorno sono presenti quattro allegorie delle vittorie. La sala di Esther invece faceva anche da sala da pranzo e presenta sul soffitto l'incoronazione di Esther, quindi una scena biblica dipinta dallo stradano con un'iscrizione in onore di l'onore da Toledo nel fregio. L'eroina biblica Esther si presenta al marito, il re persiano Assuero, chiedendo grazia per il suo popolo. La duchessa è paragonata a Esther come intermediara tra i cittadini e il sovrano. Esther, giovane ebrea di grande bellezza, venne scelta proprio dal re di Persia Assuero come sposa. Ignorando però le sue origini, Assuero ordinò di sterminare i giudei, un suggerimento del suo consigliere, ma Esther salvò il suo popolo intercedendo presso il marito. La decorazione della sala celebra l'onora di Toledo nel suo ruolo di duchessa e negli ovali del soffitto troviamo i fatti della vita di Esther, episodi della storia del popolo ebreo. Vi sono conservate anche un lavabo del XV secolo che proviene dal palagio di parte Guelfa e degli arazzi di Vanassen rappresentanti la primavera e l'autunno. La sala di Penelope mostra invece una scena mitologica e al sul soffitto Penelope al telaio con altre tessitrici. Penelope appare in evidente omaggio alla fedeltà coniugale della duchessa. Nell'odissea infatti il poeta Omero narra che Penelope durante la lunga assenza del marito, Ulisse, reddita, che riuscì a evitare un nuovo matrimonio rinviando la scelta di uno dei pretendenti alla conclusione di una tela che di giorno tesseva e di notte di nascosto disfaceva. L'episodio rappresentato al centro del soffitto celebra la fedeltà coniugale, esalta il ruolo della donna che attende alle faccende anche domestiche, mentre il marito è in guerra. Il fregio mostra le avventure di Ulisse durante il viaggio di ritorno dalla guerra di Troia, elencate proprio nell'ordine in cui sono narrate da Omero. Alternate però allegorie delle virtù ai lati, quattro divinità fluviali e due stemmi medici Toledo. Sulle pareti una madonna con bambino e San Giovannino. Il camino è una replica neorinascimentale però del 1921. La sala di Gualdrada invece era la camera privata di Eleonora. Gualdrada è un personaggio storico fiorentino che rifiutò le avanze dell'imperatore Ottone IV, giurando fedeltà al marito. Gualdrada è quindi un'eroina vissuta proprio a Firenze nel XIII secolo e ricordata da Dante anche nel Paradiso proprio per le sue virtù. Gualdrada si rifiutò di baciare proprio l'imperatore, affermando che nessun altro uomo tranne suo marito avrebbe potuto farlo. Secondo la tradizione la bella fiorentina Gualdrada disobbedì all'ordine del padre di lasciarsi baciare dall'imperatore in visita a Firenze. L'episodio qui rappresentato celebra dunque la virtù della purezza e della pudicizia ma allude anche all'indipendenza della città di Firenze. La relazione tra Gualdrada e Firenze è ribadita dalla decorazione del fregio che rappresenta proprio anche vedute di città e di feste tradizionali. Le pitture si devono sempre allo stradano e vi è conservata un pregevole stipo con pietre dure intarziate. Particolarmente interessante è il fregio dove sono dipinte varie vedute della Firenze del XVI secolo con piazze, scene di festa, giochi e altri eventi narrati con una grande vivacità e minuzia proprio dallo stradano che non a caso era fiammingo e quindi abituato a dipingere con cura a tutti i dettagli. Le vedute sono alternate ad allegoria di virtù. Grazie a tutti.